Il film è un film di popoli e religioni. Sono lavorato nove giorni di eventi, film da tutto il mondo e grandi ospiti tra cui Terenzilla. Fare del linguaggio cinematografico uno strumento di reciproca conoscenza tra tutte le religioni presenti sul pianeta Terra. Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti